Andrei avete vinto 3 a 1 con Ia Latina, una partita molto tirata, tutti i sette? Sì, mi ha fatto tre punti che sono importanti, non sono contento di quello che abbiamo fatto come qualità perché se vogliamo continuare a crescere queste partite sono importanti per fare degli step e oggi usciamo da campo con una vittoria, soffertissima, però a livello di qualità di gioco abbiamo fatto solo un passettino indietro, quindi si torna a casa per lavorare e migliorare la parte proprio tecnica della qualità. Abbiamo visto Nimi riuscire toccandosi la coscia, cosa è successo? Intanto io credo che le sostituzioni vengano fatte, a parte per gli infortuni, ma in questo caso qui abbiamo Simonius che ha recuperato anche lui dall'infortunio, un bel giocatore e questa squadra qui ha bisogno di tenere alta la qualità del gioco quindi in campo cerco di mettere sempre giocatori che danno qualità. E' andata bene in casa contro Milano, 3-1, però avete lottato su tutti i sette? Sì, purtroppo non abbiamo giocato la nostra migliore partita secondo me potevamo svegliarci un po' prima in certe occasioni perché poi nel finale dei sette comunque ce la siamo sempre lottata Loro sono una bella squadra, ci hanno messo tante persone in battuta, hanno difeso tanto, hanno toccato tanto a muro quindi è stata per noi complicata stasera, però non perdiamo la fiducia, adesso inizieranno altre partite difficili quindi dobbiamo essere positivi Cosa è che dovete migliorare? Secondo me se cresciamo un pochino in battuta e con la difesa, il muro difesa possiamo fare meglio Grazie